Luciano Moggi, ospite dello Juve Club Alex Del Piero, la cena del direttivo a Villa Schiavia Sermide e si è presentato carico e in grandissima forma. Il direttore ha presentato il suo libro dal titolo Il pallone lo porto io insieme al giornalista Claudio Zuliani ed ha annunciato 78 anni la sua intenzione di ritornare in prima linea una volta che scadrà la squalifica tra non molte settimane. Il significato di questo libro è raccontare alcuni episodi di una carriera che praticamente spero sia stata una carriera brillante, una carriera che ha dato dei risultati e su questo penso che non ci siano dubbi e sono contento, l'ho descritto. Adesso però c'è ancora un altro libro da fare, quello delle intercettazioni, ma questo dopo la Cassazione vado sempre avanti per la strada mia, certo di quello che ho fatto e quello che posso fare, non mi monto mai la testa per cose che praticamente potrebbero non succedere, vado avanti, vado avanti perché nella vita a rendersi è sempre una cosa brutta. Io ho sempre ritenuto la paura la più brutta consigliera che una persona può avere. Il calcio è diverso perché è diversa la qualità, diversa la qualità dei giocatori perché il calcio sono sempre 11 giocatori in mezzo al campo. La realtà è chi manovra meglio la palla, quello lì praticamente dà un effetto diverso. Il calcio di adesso, il calcio in Italia purtroppo è il calcio che lascia molto a desiderare. Sempre una grande Juve in Italia, all'estero un po' meno. Davanti a tutti gli Juventini, Luciano Moggia ha poi lasciato la cena in anticipo tra l'entusiasmo dei tifosi con tanto di fuochi d'artificio.